Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui dal vostro Eppegame per parlare soprattutto di questa Italia Un'Italia che secondo me deve cambiare rotta, è un periodo brutto dove gira bene Squadra veramente inguardabile, squadra che trova solo un gol e si fa pareggiare con un errore gravissimo E quanto riguarda il portiere, il portiere Donnarumma in questi due anni dopo l'europeo vinto non ha potuto riportare le stesse prestazioni che ha fatto tutto l'europeo Un portiere che secondo me deve cercare qualche stimolo, secondo me è un grande portiere ma dopo l'addio dal Milan questo portiere secondo me non ha dato bene Non ha fatto bene, è un gioco portiere che secondo me merita di restare in panchina e di far spazio a un portiere come Guilherme Vicario Vicario è un grandissimo portiere secondo me, Vicario potrebbe dare la spinta in più in difesa Donnarumma sta facendo veramente tanti errori, non vorrei scriminare solo lui ma secondo me è la parte principale della nazionale Che non trova più sicurezza nei propri mezzi, una nazionale che deve cambiare marcia, una nazionale che ha preso un punto nella Macedonia Ancora una squadra che ci dà veramente fastidio e che stiamo iniziando veramente a odiarla al massimo Una nazionale che riesce ancora a rubarci i punti, ci ha buttato fuori dal mondiale Ora rischiamo anche nell'europeo anche se ci sono tante altre partite La prossima è un big match contro l'Ucraina che ha pareggiato con l'Inghilterra e vorrei da questa Italia Una marcia in più, una risposta, ho visto quasi le lacrime di Immobile Ho visto gli occhi lucidi di Spalletti che per ora gira male ma l'Italia deve usare i propri mezzi per portarsi in alto Un'Italia che ieri ho visto giocare con una distrazione totale Formazione messa in campo dove troviamo il gol con Immobile Ma che speravo di chiuderla e di portare tre punti a casa Ma non è stata così, abbiamo portato un punto, siamo a quota 4 Inghilterra a quota 13 Ucraina a quota 7 Quindi dobbiamo vincere sia i big match ma dobbiamo vincere altre due o tre partite Per qualificarci in questo europeo perché vediamo che ci sono le nazionali nel nostro girone Che ci possono dare fila torce E sono la Macedonia, sono l'Ucraina Che possono levarci il posto Vediamo nell'Inghilterra a quota 13 Che si distanzia tantissimo E spero che portiamo a casa una vittoria Un'Italia che nel primo tempo ha fatto un 20% dei propri mezzi che ha a disposizione Ha usato il 20% ma vorrei vedere un'Italia diversa Spalletti ha detto nella conferenza stampa Ha detto prima della partita che il presidente gli ha dato in mano una nazionale Ha scelto lui i giocatori da convocare Non capisco perché non ha convocato Calabria Che ho visto veramente ha fatto un bel lavoro con le pietre di giornata con il Milan E poteva secondo me dare una grossa mano a questa nazionale Non ho visto convocare altri giocatori Ma ci accettiamo le decisioni di Spalletti Che ha preso questi giocatori Ha scelto questi giocatori Ha messo in campo lui la formazione È la prima partita Dobbiamo dare spazio a questo allenatore Che secondo me farà bene con l'Italia Mi auguro di vedere l'Italia europea Perché non vedere l'Italia europea è veramente una cosa brutta Da pensare e da passare Soltutto perché non andare mondiale Non andare europea significa veramente disfatta Significa veramente delusione E bisogna prendere una decisione e trovare una soluzione Speriamo nel ruolo di allenatore Quando riguarda Spalletti Che secondo me come ha fatto bene al Napoli Pian piano farà bene con la nazionale Non è il Napoli La nazionale non è in Napoli Ma ha giocatori di grande livello E giocatori che possono veramente far bene Se stanno bene mentalmente Quindi la forza dell'Italia è stare bene mentalmente Fatemi sapere in questi commenti cosa ne pensate Secondo me è un'Italia che deve incominciare a creare Deve incominciare a iniziare da zero Perché la perla L'esonero di Mancini E poi preso Spalletti A metà cammino per le qualificazioni europee Secondo me deve ancora da tempo tutto allenatore Che oggi ha portato un punto a casa Ma secondo me è il periodo brutto che gira nella nazionale E secondo me prima o poi Riusciremo in qualche modo a qualificarci Ci vediamo alla prossima ragazzi Veramente senza parole Quanto riguarda l'esternazione nazionale Ma da persona positiva ci credo ancora E ci crederò fino alla fine Perché l'Italia deve essere quest'anno agli europei Bella ragazzi Alla prossima